Ed anche il biellese subisce l'impennata della diffusione del covid-19 delle ultime ore. Ieri sono stati segnalati 48 contagi in più rispetto alle 24 ore precedenti. Nettamente inferiore invece il numero dei guariti, più 9 rispetto al giorno prima, più 154 rispetto a 7 giorni fa. Per fortuna non si registrano nuovi decessi, il totale dei morti a causa del covid a Biella è di 441 persone. In crescita in queste ore anche il numero dei ricoveri che da 15 degenti all'interno del nosocomio cittadino di tre giorni fa si è saliti ora a 28 ricoverati. Uno in rianimazione, ovviamente in gravi condizioni, cinque in terapia intensiva e i rimanenti in bassa e media intensità. Di questi due terzi non sono vaccinati. In Piemonte sono 1.206 nuovi casi di persone risultate positive al covid-19 pari al 3,3% di 36.610 tamponi eseguiti. Dei 1.206 nuovi casi, gli asintomatici sono 815. I ricoverati in terapia intensiva sono 48, più 2 rispetto alla giornata precedente. I ricoverati non in terapia intensiva sono 548, più 40. Le persone in isolamento domiciliare sono 17.493. I decessi in regione rimangono quindi 11.916.